Buongiorno a tutti e benvenuti ad una afternoon session su Bitcoin. Afternoon perché sono le 12.01. Oggi è venerdì 4 novembre e ragioneremo di due cose fondamentali in questo video. La prima è un bravo analista dei mercati e anche un bravo trader, le due figure possono coincidere. Seconda cosa, perché l'evoluta ci permette di essere sempre pronti a muoverci quando sarà il momento più corretto. Se sappiamo leggere bene i grafici, se abbiamo la dovuta esperienza sui mercati e sulla cripto. Allora, la prima cosa, il primo argomento è, un bravo analista può essere anche un bravo trader? La risposta ovviamente è, no, assolutamente no. Ho incontrato tanti analisti in gamba che però non sapevano come muoversi sui mercati, non sapevano come gestire le operazioni, dove mettere i take profit, gli stop loss. Magari azzeccavano il movimento ma non entravano nel momento giusto e a volte chiudevano le operazioni in perdita anche se avevano predetto tutto ma non si aspettavano determinate cose. Invece, su questo canale, trovate una persona che fa veramente trading, ok? Per cui, sono giorni che aspettiamo di muoverci nel gruppo premium. Io lo segnalo anche nella stanza analisi su bitcoin. Vi annoiate su bitcoin? Venite a trovarci su MyBedHacks. Siamo riusciti a fare un capolavoro ieri. Perché ci siamo mossi nei tempi corretti, abbiamo praticamente venduto sui minimi e adesso stavamo aspettando di entrare long, sono andati su troppo veloci ma in qualche modo riacciufferemo il treno perché abbiamo già un target. In ogni caso, ritornando al nostro discorso, un bravo analista può non essere un bravo trader. Su questo canale però trovate uno che davvero fa trading. Per cui, dato che fa trading, dato che faccio trading, sono anche molto attento a tutto quello che può succedere e preferisco aspettare determinati giorni, come sapete, prima di muovermi esattamente come da programma dell'analista. Cosa vi dicevo nei giorni scorsi? Andate a rivedere le analisi. Vi dicevo che al massimo un T, un raccordo di grado T inverso 2, 11 giorni e voi mi dite, però, qui siamo a 12 oggi, non c'è stata la spike. Attenzione, 11 giorni più spike eventuale con il target che ci eravamo dati, ovvero sopra questo massimo ma con candela rossa era l'eventualità se volevano fare una gran bella finta dopo la condizione necessaria e sufficiente per la chiusura già del raccordo a 6 bar. Ecco perché noi siamo flat, siamo fermi. Perché fino a che non smarchiamo tutte le possibilità non vogliamo mica rischiare di perdere i soldi. Piuttosto si aspetta e si vede. Qui, se avessimo provato uno short, sì sì, sarebbe andato per carità bene. Se ci fossimo dimenticati che avremmo superato il sesto giorno, ci ritornava conto. In ogni caso, per ora tutto corretto con il discorso della spike. Ma noi sappiamo già se questa candela andrà a finire sopra il massimo dato di su e poi si svuoterà completamente entro la fine della giornata perché parliamo di questo. No, non lo sappiamo, giusto? Perché sono un analista quantitativo dei mercati e delle cripto, non un mago. In certi momenti preferisco stare fermo come trading perché non voglio magari risicare qualche punto, qualche dollaro e poi ritrovarmi a dover gestire una situazione in perdita se non ho fissato bene gli stop, se me li hanno saltati o a tante altre cose che possono capitare e che sono capitate nella mia carriera di oltre 28 anni di trading. Per cui, essendo peraltro arrivati di indice di nuovo a minimo le 6 barre di durata giornaliera più minimo ancora più basso e partenza possibile di nuovo settimanale col cavolo che, come dicevo ieri, mi sarei mosso short anche perché era troppo articolata c'erano troppe possibilità su bitcoin di salire, scendere, eccetera. Qui ha continuato a seguire per bene la media mobile a rimanerci sotto e tanta gente voleva provare uno short non ho dato short perché? Perché sono prudente e qui si è vincolato il sesto T-3 inverso a rialzo. Si è vincolato il rialzo, per cui che cosa succede? Il sesto T-3 inverso si è vincolato a ribasso ovvero rialzo di prezzi, pardon. Ogni tanto anch'io faccio l'errore. Significa che, dato che qui abbiamo fatto un massimo assoluto a 21 barre a 2695, entro le 43, e quindi ce ne sono tantissime il nostro target è superiore proprio a questo massimo qua fatto che non è ancora stato superato e noi siamo solo a 27 barre su in media 32 al massimo appunto 43. Quindi che cosa ci aspettiamo? Ci aspettiamo un ultimo nellino di salita ce lo sta facendo aspettare tanto o per carità, ma andiamo a prenderci un'operazione del genere mentre siamo nell'ultima giornata in cui vi avevo detto di fare attenzione a che cosa poteva succedere? Ognuno ha la sua scelta io certe cose le ho pagate voler provare a fare una piccola operazione magari temporaneamente contro trend l'ho sempre pagata carissima Ma è stato un problema? No, un'opportunità per elaborare un metodo fatto di regole che se seguite è vero che non ci permettono di prendere questa discesa in cui però avremmo rischiato uno stop loss qua magari non ci prendeva per un pelo ma qui rischiavamo uno stop loss e poi si continuava a scendere però tra poco se non ci siamo mangiati capitale nel frattempo con operazioni che possono essere andate come possono essere andate tra poco iniziamo di nuovo a fare trading Bitcoin sta per dirci che cosa succede per cui ricordiamoci sempre che un bravo analista può non essere un bravo trader e viceversa un bravo trader no viceversa no perché comunque se sei un bravo trader se sei bravo a un certo punto diventi un bravo analista forse per quello che ho sempre cercato di togliere ai metodi precedenti che ho utilizzato per elaborare l'analisi evoluta togliere le cose che non servono togliere gli indicatori che non servono togliere e andare in gradi di priorità per quelli che sono appunto le cose che invece servono quindi attesa per ora superiore appunto a questo massimo 20.695 iniziamo a fissare come al solito dei paletti 20.000 cosa abbiamo detto già 20.695 ok perfetto così non sono obbligato a stare attaccato a monitor tutto il giorno mi squilla l'allarme se non lo sento mi arriva la mail e io so che cosa devo fare o posso fare o devo iniziare ad immaginare la seconda cosa di cui mi preme parlare proprio perché dimostrano i fatti che tipo di trader e analista sono è che l'evoluta è davvero un metodo che ci permette di ragionare di un piano A e come di consueto anche però tenere conto di un piano B se le cose dovessero iniziare a non sembrare più corrette sul piano A ovviamente come vi dicevo questa è la strada maestra ok se però non ci sarà già candela rossa e se andremo sopra un determinato massimo e se saliremo senza quella candela rossa che potremmo avere forse questa sera e abbiamo delle opportunità che opportunità la prima è di ricordarci che siamo a quanto siamo 82 giorni su 84 di durata massima di un trimestrale che in questo momento sarebbe fatto a sarebbe fatto come? da 1 2 già un raccordo e come facciamo ad arrivarci se arriviamo sopra che cosa? come è possibile? il raccordo deve essere di 3 gradi inferiori quindi T più 3 inverso quindi T inverso non si può andare oltre se andiamo sopra c'è c'è qualche cosa che non funziona esatto e ne abbiamo tenuto conto? perché come negli innumerevoli video che potete vedere su questo canale oltre 1500 video in un anno e qualche cosa in un anno e mezzo non so quanti altri possono avere questi numeri e fino dai tempi di trading view tanti anni fa il discorso è sempre uno ragionate di un piano A ma tenete sempre pronta la vostra testa a ragionare di un piano B ok? e che cosa significa ragionare di un piano B che quando iniziamo a vedere qualche cosa che potrebbe stonare qui il raccordo non ci starebbe più dobbiamo capire che cosa sta succedendo prima di essere già investiti però prima di aver già scelto se acquistare o vendere bitcoin ecco perché si rimane flat e quindi qual è la riflessione che sto per fare? dato che l'evoluta come metodo è estremamente sensibile a determinate rapide variazioni che può fare bitcoin piuttosto che qualsiasi altra cripta piuttosto che gli indici che possono dirci ma ma siamo sicuri che il programma sia corretto ok? quando siamo in questi periodi particolari ribadisco accordo inverso più possibile massimo e spike quindi non mi muovo aspetto per sicurezza se questa roba qua rimane verde questo costrutto rischia di cadere e io devo già sapere che cosa può succedere e come faccio a saperlo? se non mi guardo attorno vado da poche parti se invece vado a guardare anche altre cose a confrontarmi vi ricordate che vi dicevo che la situazione su ethereum è molto diversa a livello di swing rispetto a bitcoin si questa candela ci ricorda una regola fondamentale relativa agli swing anzi due nella realtà dei fatti la prima è che lo swing è una conferma che può arrivare oppure no che ci permette di fare trading in maniera più tranquilla di essere sereni di quello che stiamo facendo ma come detto da regole può non arrivare controllate i video precedenti dicono tutti la stessa cosa e se continueremo a salire e non avremo più cadrà il discorso del raccordo perché la candela non diventerà rossa noi saremo obbligati guardate questa bella freccina che era già presente sul grafico da varie analisi a prendere in considerazione la partenza di un altro mensile inverso da qui che può arrivare a 24 barre durata minima tra due giorni giusto? perché siamo a 22 23 24 giorni giusto? e se giungo due giorni agli 82 a quale durata magica arrivo? arrivo a più 2 84 ovvero qua chiusura di mensile inverso nei tempi corretti qui un semplice appunto sempre settimanale ma non raccordo il primo secondo terzo quarto questo settimanale questo terzo chiusura di inverso di primo secondo secondo terzo terzo mensile inverso e teorica possibilità finalmente di andare a scendere per far partire il trimestrale di inverso ma se andassimo anche oltre attenzione perché a 96 ovvero tra 14 giorni 14 più quanto siamo abbiamo detto di possibile mensile inverso non confermato dallo swing però io mi devo preparare a sapere che cosa fare tra poco giusto siamo a 22 22 più abbiamo detto minimo 96 giorni 22 più 14 qui arrivo al semestrale aggiungo 14 giorni qua rimango dentro mensile mensile può durare al massimo 43 barre 43 giorni quindi ci sto posso andare persino ad allungami a fare che cosa non soltanto una chiusura di trimestrale ma una chiusura di semestrale che poi ci fa scendere ancora più forte perché perché se non torneremo sopra questo massimo a 25.205 dollari non ci sarà nessun vincolo su questo possibile già annuale nuovo annuale inverso se non torniamo qui sopra chiuso il movimento che sia un trimestrale inverso che sia un semestrale inverso quello che volete si va giù si va giù ok quindi odler attenti da adesso in avanti iniziate di nuovo a valutare che cosa volete fare un odler tanti odler contano purtroppo non tanto sul mercato in cui tutti continuano ad acquistare vendere perché loro hanno già acquistato e quindi non muovono più nulla quando hanno acquistato la loro funzione di movimento del mercato non esiste più e gli hft sono un po' più grossi quindi è importante sapere caspita qui ho o tra due giorni se continuiamo a salire e poi iniziare ad invertire forte chiude il trimestrale inverso e ne parte un altro e si scende si scende oppure stiamo continuando a salire quindi l'ipotesi raccordo cade raccordo inverso stiamo andando a chiudere un semestrale inverso fatto a uno due tre t più due inversi ovvero tre cicli mensili inversi ovvero a tre tempi non riusciamo ad arrivare qui sopra non vincoliamo niente l'annuale inverso salire si scende questa sarà una bella resistenza se vorremmo arrivarci mai perché siamo tanto in basso ma abbiamo tanti giorni per arrivare lì e questo è il quadro generale che dovete avere in testa ok perché a un certo punto chiuso l'inverso e parte un altro e l'inverso parte con discesa che sia un nuovo trimestrale inverso che sia un nuovo semestrale inverso soprattutto ecco perché sono prudente ecco perché non anticipo di short perché oltre a dimostrare nei fatti quanto posso essere in gamba nel trading e prima però devo essere un analista sempre pronto a capire cosa sta succedendo perché un grafico è vero che è un metodo statistico matematico ma come vedete si può prestare a varie interpretazioni e gli swing come sempre detto come da regole sono solo una conferma che fortunatamente per noi qui è arrivata su Ethereum e quindi ci ha dato un'idea di quello che potrebbe succedere e qui semplice siamo arrivati a 30 barre abbiamo trovato già un massimo assoluto partendo da questo massimo a 24 barre sì qui può fare tutto quello che desidera può continuare eventualmente ancora a salire se vuole perché non ha violato uno swing inverso di minimo per far partire qualche cosa di grosso che è sempre una conferma che può non esserci è vero ma ancora tutto il tempo che vuole per fare che cosa per arrivare fino a 32 35 43 barre d'accordo grazie al fatto che mi avete bombardato di richieste per esaminare Ethereum e io vi ho dato quello che mi aspettavo vedete salita ok noi possiamo ricostruire il fatto che come un po' tutti comunque mi stavano dicendo qui purtroppo anche se non c'è la violazione dello swing che è una conferma il rischio è che da qui appunto sia partito un mensile inverso e questa candela mette immediatamente in allarme perché rimaniamo flat perché aspettiamo anche giorni per poterci muovere per poi prendere la direzione corretta e per evitare di prendere schiaffi sulle criptovalute qui è come si lavora regole costanza disciplina ok perché senza senza continui controlli senza gli occhi sempre aperti su quale può essere il piano B senza fare confronti con le altre cripto il rischio di farsi tanto male se si va short prima del tempo corretto se non si ascoltano bene le analisi in cui si parla di massimo 10 candele di inverso di raccordo e poi candela con massimo spike e candela rossa e se non si fa attenzione che questa candela già stona per cui vogliamo incapponirci con quella che è stata fino ad adesso e continua a essere teoricamente la gli swing ci sono per quella manca la conferma su questa oppure preferiamo magari essere molto pronti a comprendere già se c'è qualche cosa che stona quale può essere un'alternativa per tornare a fare trading e guadagnare io mi ricordo che tanti ciclisti tra virgolette analisti di ciclica dei vecchi tempi si incapponivano peccato poi che non arrivavano i risultati a livello di trading perdevamo soldi perché l'analista era magari in gamba ma si fissava sulla sua idea non era disponibile a trattare su quello che vedeva a monitor pensavano alcuni che il mercato si muovessero come dicevano loro io invece so in cuor mio che io posso soltanto osservare e ragionare che criptovalute e tutto il resto si muovono con volumi HFT e che con l'evoluta posso capire dove stiamo andando ma devo sempre confutare le ipotesi principali che ho in testa sempre solo in quel modo appena vedrò qualche cosa di particolare che diventa difficile fare ma possibile salita sul massimo e svuotamento della candela l'abbiamo visto un miliardo di volte guardate qua salita sul massimo e svuotamento della candela che diventa rossa salita sul massimo e svuotamento della candela è successo è in passato successo 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 ma io devo essere pronto perché appena mi viene data l'occasione finalmente inizio a rifare trading su di bitcoin e finalmente posso muovermi ok vi ringrazio per il vostro tempo se volete capire come uscire dal parco buoi come liberarvi dei fuffa guru come capire esattamente che cosa serve per comprendere come si muovono i mercati con un sistema statistico matematico che a volte può essere soggetto a più interpretazioni bisogna essere rapidi a vedere quali possono essere ok sempre in base alle regole non ad altro allora iscrivetevi gratuitamente a questo canale cliccate sulla campanellina e valutate di chiedere degli appunti gratuiti con cui anch'io ho iniziato tanti anni fa i risultati sono sotto gli occhi di tutti vi ringrazio per il vostro tempo e vi auguro una splendida giornata la mia sarà sicuramente perché ho già deciso così ed è venerdì arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti